Importante scoperta sul ruolo del ferro nel Covid-19 e nel Long Covid, grazie a un team di ricercatori dell'Università di Teramo e dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara. Gli esperti hanno individuato un'alterazione di proteine fondamentali per il metabolismo del ferro nei pazienti infetti dal SARS-CoV-2 e anche in pazienti affetti dal Long Covid. In questo lavoro di ricerca abbiamo portato a compimento l'applicazione di studi che il mio gruppo di ricerca porta avanti da diversi anni sul metabolismo del ferro, sul controllo delle concentrazioni del ferro e di fatto insieme all'Università di Chieti e all'ospedale Sant'Annunziata di Chieti abbiamo potuto evidenziare di fatto due meccanismi fondamentali che sono attivati nel Covid e nel Long Covid, ovvero abbiamo potuto evidenziare la presenza di proteine alterate dell'omeostasi del ferro, proteine che vengono alterate e che comportano, diciamo, da un lato una iperferretinemia, un'elevata concentrazione di ferro, ma portano anche e soprattutto possono portare a un'elevata concentrazione di ferro in quelle cellule che sono deputate ai nostri meccanismi di difesa, ma che in questo caso vengono completamente alterate, ovvero i macrofagi. Questa alterazione porta a un'attivazione di un enzima importantissimo, che è la 5-lipossigenasi, un enzima che normalmente viene regolato in modo molto fine è che nel Covid e nel Long Covid abbiamo evidenziato essere sovraattivato ed essere responsabile probabilmente di quella tempesta citochinica che nel Covid è, ahimè, causa nefasta di patologie gravi, di forme di patologie gravi che possono portare appunto a condizioni molto gravi a morte. Inoltre suggerisce ulteriori studi per individuare nuove strategie terapeutiche, in patologie infiammatorie acute e croniche, degenerative e tumorali, oltre che nelle infezioni virali. Questo nuovo meccanismo molecolare quindi può da un lato implicare diciamo un approccio terapeutico completamente diverso, quindi un approccio terapeutico in cui si vada a colpire e a regolare sostanzialmente l'omeostasi del ferro da un lato e dall'altro a controllare invece questa sovraattivazione di questo enzima 5-lipossigenasi.